Ciao a tutti e scopri e benvenuti in questo nuovo episodio di Nulla su un video aggiornamento per di Vickery Allora, io non posso far molte cose speciale intanto dovrebbe uscire la prossima settimana se non questa o quella dopo per 200 iscritti poi, un altro avventimento è che con la scuola e tutto io non esco più a far nulla prima riuscirò a caricare ogni video perché l'avevo già pelle distratti adesso io non ce la faccio più e quindi dato che quelli pelle distratti vi faccio anche vedere un esempio se andiamo qua video cos'è? a parte Undertech e vabbè FNAF 2 questi poi cos'altro FNAC questi qui che non posso caricare il tezzo perché li faccio direttamente vedere se si accende anche mi fai rio fai rio funziona funziona 0 0 non posso far nulla non posso far nulla su qua e quindi ok e vabbè ora ho registrato un po' di episodi di microsoft ma giusto così e vi faccio anche vedere qua ho creato già una tabella diciamo per la settimana dove lunedì è se pokemon martedì è se FNAF o FNAK una delle due che poi FNAK l'ultimo cisterlocation gli amico ci stiamo rilavorando perché dato che non riusciamo a battere quella parte la quarta notte riusciremo a fare in un altro modo cioè mettendo tutto da capo e facendo il finale buono anche la quarta notte sarà diversa ma dobbiamo battere quel mini gioco e da lì un po' di casino giovedì poi c'è quella subita e uscirà solo la subita venerdì detail la nuova serie sabato minecraft come mercoledì uguale e domenica quella dub ita dub ita per momento faccio under fail poi incomincerò anche a caricare altri dub e per questo qui è quello che volevo dire sul fatto che con la scuola non riesco più a migliorarmi ora sto facendo anche quella lì di per oggi della subita non riesco più a migliorarmi quindi ho fatto questa tabella per tornare meglio a me quindi vabbè spero che capirete e ciao scopi